Mi chiamo Ezequiel Jurkovic e sono un membro della rete G2 Seconde Generazioni. Al Meeting Ampas abbiamo presentato la nostra idea di modificare la legge italiana sulla cittadinanza per permettere a tutte quelle seconde generazioni, quindi figli di immigrati nati e o cresciuti in Italia, quindi arrivati da piccoli, di poter divenire cittadini italiani e contribuire anche allo sviluppo e alla crescita del paese. Perché ricordiamolo, la legge italiana sulla cittadinanza, che risale al 1992, è una delle più restrittive e non contiene minimamente in considerazione le aspettative, i desideri e anche i desideri di contribuire al paese dell'oltre milione di seconde generazioni che vivono in Italia. La proposta della rete G2 di modificare la legge italiana sulla cittadinanza è stata anche inserita all'interno della campagna dell'Italia sono anch'io, che ha raccolto oltre 200.000 firme di cittadini italiani e che sono state consegnate al Parlamento nel mese di giugno scorso e che sono ancora in attesa di essere esaminate dalla Commissione competente, dalla Commissione Affari Costituzionali. Speriamo che venga fatta al più presto, calendarizzata, discussa, ma soprattutto approvata una riforma che serve al futuro dell'Italia. Grazie!